E' stata più contenuta del previsto, almeno nel veneziano, l'adesione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico e locale, indetta nella giornata di ieri dai sindacati CGL, CISL, UIL. L'azienda CTV stima attorno al 20-22% le assenze dal lavoro, più spostate nel settore automobilistico, con circa il 30%, che in quello di navigazione, anche se ad esempio non è saltata alcuna corsa del tram che unisce Venezia a Marghera, Mestre e Favaro. E' ugualmente limitati rispetto alle previsioni i disagi per gli utenti della linea 80 di Arriva Veneto. I sindacati però contestano le cifre fornite e affermano che l'adesione è stata molto più alta, attorno al 50%. Allora questa mattina siamo qui alla Pescheria della Cam e in particolare abbiamo le seppioline a 80 euro al chilo. Vi ricordo che un mese fa al mercato ittico all'ingrosso un euro quasi a 200 euro, quindi certo è un prezzo non certo alla portata di tutti, ma abbiamo anche le orate all'offerta ancora di 5 euro 90, 5 euro 90 al chilo, però bisogna prendere almeno 3 chili. E' un prezzaccio, vi conviene affrettare perché sono prodotti che finiscono in pochissimo tempo. E' stato arrestato alle 4 della notte tra martedì e mercoledì a Villa Italia, discoteca in via San Marco a Padova, Nicola Marangon, chioggiotto di 27 anni che vive in un comune della provincia padovana. Il giovane si era introdotto negli uffici della discoteca cercando di rubare 50 drink card e un telefono, oltre a forzare la cassaforte servendosi della punta di un trappano. Ma un butta fuori se n'è accorto e ha immobilizzato l'uomo prima di dare l'allarme alla polizia di Stato, che ha poi tradotto il 27enne nelle celle di sicurezza della questura di Padova, dalle quali è stato rilasciato ieri mattina in attesa di celebrare il processo. Fresco afflusso di denaro dalle casse pubbliche per la salvaguardia e lo sviluppo di Chioggia e del suo Interland. Il comitato interministeriale per la programmazione economica ha infatti stanziato quasi 3 milioni e 500 mila euro per proteggere e ricostruire la spiaggia di Isola Verde. Il ripascimento avrà luogo in due stralci e sarà finanziato anche dalla Regione Veneto. Il provvedimento ministeriale finanzia 34 interventi in tutta la Regione, 10 dei quali già pronti a partire. Risale invece due giorni fa la notizia che nella variazione di bilancio di previsione 2019 l'autorità portuale di sistema per l'Adriatico settentrionale disporrà di 27 milioni per l'escavo dei canali di accesso ai porti di Venezia e Chioggia. Rimane però da risolvere il protocollo dei fanghi con l'individuazione dei siti dove riversarli. La questione è al centro anche del dibattito attorno al destino delle grandi navi da crociera. Nelle intenzioni del Presidente Pino Musolino c'è l'anticipo delle infrastrutture previste dal 2020. Ben due feste popolari di quartiere iniziano oggi nel territorio clodiense. Al patronato di Calle Malanni 615 prende il via l'appuntamento annuale con la parrocchia di San Giacomo. Alle ore 18 il Vescovo Adriano Tessarollo celebra in chiesa la messa animata dal coro San Filippo Neri. Dalle 19.30 sarà operativo lo stand gastronomico e da domani anche per asporto. Domenica 28, giorno di chiusura della manifestazione, alle 22.30 saranno estratti i biglietti della lotteria a premi. Anche la frazione di Sant'Anna celebra la patrona con una maratona di cinque serate all'insegna della grande gastronomia locale. Protagonista l'anatra, ambitissima sia con i bigoli che con gli gnocchi. Tutte le sere fino a lunedì si balla al liscio con le orchestre Rossella, Ferrari e Casanova stasera, Renzo Biondi domani, Chiara e Magic Music sabato, Il Sorriso domenica, Il Mulino del Po lunedì. Musica anche nella piazza della chiesa antica, rispettivamente con la festa latina di domani sera, la Sing Big Band di sabato, i VHF domenica e la Blue Silk Band lunedì. Non manca ovviamente la lotteria che mette in paglia una Volkswagen T-Rock e altri premi minori, estrazione lunedì a mezzanotte prima dei fuochi d'artificio. Domenica mattina la messa con il Vescovo, in cartellone anche la mostra degli artisti locali Paolo Doria, Gabriella Siviero e Adamo Pacchiede, nei locali della scuola elementare di Sant'Anna. Tutto è pronto all'Arena dell'Isola dell'Unione per lo spettacolo In Toleranza 2.0, che questa sera il comico televisivo Andrea Pucci porterà sul palco dalle ore 21.30, unico appuntamento veneto del suo tour. E Padovano d'origine è anche l'attore che si esibirà assieme alla Zuravsky Live Band. Il primo mare che ho conosciuto è proprio quello di Chioggia, dove mi portava mio padre d'estate, ha detto il comico. Ci torno sempre volentieri e poi se magna bene. Peccato essermi perso la sagra del pesce. Pucci dice di non fare satira politica, ma di prendere in giro il quotidiano e il racconto che ne viene fatto. L'intolleranza è sempre in continuo aggiornamento, per cui serve poter passare due ore in leggerezza dentro una società che ci tiene sempre sotto pressione. Ogni tanto è importante smaterializzarsi. Andrea Pucci sta già preparando il nuovo spettacolo per l'inverno. Intanto questa sera ci sono ancora biglietti, sia numerati che di gradinata, al botteghino dell'Isola dell'Unione, oltre che alla biglietteria di Ello Venezia in Piazza Europa Sottomarina. Ultimo appuntamento domani sera, venerdì 26 luglio, alla Fondazione Franceschetti in via Cavallotti 13 ad Adria per gli incontri con gli autori nell'ambito di Adria Legge in 100 minuti, rassegna organizzata dalla libreria Apogeo in collaborazione con il presidio del libro nei venerdì d'estate. Dalle ore 21 saranno protagonisti gli scrittori Peppe Millanta, che presenterà il suo Vimpel degli Orizzonti, edito da Neo, e Maura Chiulli, autrice di Nel Nostro Fuoco per H Edizioni. Adria Azzurra ne ha parlato con la libreria Diana Cassetta, che lavora ad Apogeo in corso Vittorio Emanuele 147, per tracciare un bilancio dei primi tre appuntamenti già trascorsi, che hanno richiamato a cadenza settimanale pubblico anche dai comuni limitrofi. Grazie a tutti!